Per San Pietro Altanagro, domenica di disagio e paura che è proseguita nella mattinata di oggi. Ieri mattina una frana si è abbattuta sulla strada di collegamento con San Rufo. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata di Via Verlame, salita in dipendenza, nei pressi della zona di Madonna della Tempa. Strada quindi completamente sbarrata, ma per fortuna nessun danno a persone o cose. Sul posto ieri mattina gli agenti della Polizia Municipale e i referenti del Centro Operativo Comunale COC di San Pietro Altanagro. A rendersi conto di quanto accaduto, due ragazzi che stavano percorrendo l'arteria. All'improvviso si sono ritrovati di fronte uno sbarramento di fango venuto giù dalla montagna, trascinando con sé anche arbusti e alberi. Immediatamente il sindaco Domenico Quaranta ha emesso ordinanza di chiusura dell'arteria. Ma le problematiche per il piccolo comune valdianese sono continuate nella giornata di ieri con l'allagamento della strada statale che collega il comune con il rettilineo San Marzano. La strada statale 426 era infatti completamente invasa dall'acqua dopo l'interminabile giornata di pioggia che si è abbattuta sul Vallo di Diano. Pioggia di straordinaria intensità che ha portato ad una nuova frana all'alba di questa mattina, sempre nel comune di San Pietro Altanagro, provocando danni anche al centro del paese. Nella mattinata di oggi un nuovo smottamento ha interessato il territorio comunale con una grandissima quantità di fango che ha invaso l'arteria stradale di via Scalelle, che collega con via Montagna, provocando anche la rottura di parte della carreggiata e il crollo del guardrail di protezione. L'enorme quantità di fango unitamente ai detriti hanno raggiunto via Roma, piazza Plebiscito, via 20 Settembre e via Amendola nel centro del paese. Sul posto per le operazioni di ripristino dei luoghi, gli operai della comunità montana e del comune ha lavoro per liberare le arterie interessate dal fango. A verificare quanto accaduto e per la programmazione di eventuali interventi di sicurezza anche il sindaco Domenico Quaranta, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Pagliarulo e il consigliere Giuseppe Auleta. Sotto osservazione anche Parco dei Mulini, dove si è registrato un notevole innalzamento del corso d'acqua, che se da una parte rende ancora più suggestiva l'area, preoccupa notevolmente per la potenza dello scorrimento dell'acqua e che mette a rischio il caratteristico e storico luogo.